Ci sono anche quattro progetti della Croce Rossa Italiana, Comitato di Caltanissetto o DV, gestiti dall'Associazione Centro Studi per lo Sviluppo del Mediterraneo, tra le opportunità di scelta per i giovani che decidono di intraprendere l'esperienza del Servizio Civile Universale. Anche in questo caso, ciascun progetto prevede un contributo mensile a una durata di 12 mesi per 25 ore settimanali. E al termine all'operatore volontario verrà rilasciato un attestato di espletamento del Servizio Civile e un attestato certificazione di riconoscimento e valorizzazione delle competenze prodotto dall'ente stesso. I posti disponibili per i progetti Ambulife, Assistiamo, a tutta vita e in protezione, svolti dal Comitato Nisseno in collaborazione con Svime, sono 38 e la sede di svolgimento di tutti i progetti sarà via Xiboli 345 a Caltanissetta. Per l'associazione il decimo anno consecutivo, fa sapere Nicolo Piave, presidente del Consiglio Direttivo della Croce Rossa di Caltanissetta, a cui viene riconosciuta tale opportunità nell'ambito del servizio civile, con lo scopo di creare un ponte tra i giovani del territorio e la loro partecipazione attiva nel campo della solidarietà. I progetti saranno coordinati da Daniela Castro, Cristian Fenu, Marco Lacagnina e Salvatore Buccoleri. I ragazzi e le ragazze tra i 18 e i 28 anni potranno partecipare a questi progetti presentando la domanda online entro le ore 14 del 10 febbraio 2023 e previo superamento di test scritti e colloqui di selezione, a cui saranno presenti i valutatori indicati e psicologi dello Svime, così come è anche precisato il presidente Piave. E poi ancora si precisa nel comunicato le attività oggetto dei bandi riguardano le attività sociosanitarie, sociali e di protezione civile della Croce Rossa italiana, con particolare riguardo al servizio di trasporto infermi ed emergenza urgenza, con l'ausilio dell'ambulanza e guida della stessa, nonché tutte le attività a supporto dell'azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta.